E' bello a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video! Oggi siamo qui ragazzi con un video bomba perché abbiamo avuto la possibilità di provare il nuovo fucile a pompa che Fortinet ha aggiunto letteralmente due giorni fa con il nuovo aggiornamento e fatemelo dire ragazzi, secondo me è un fucile a pompa veramente fortissimo e anche divertentissimo probabilmente uno dei migliori che è uscito praticamente negli ultimi anni però fatemelo sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate se avete avuto modo di provarlo e comunque la vostra prima impressione Prima però ragazzi di iniziare con il video e di andare a vedere cosa abbiamo combinato ragazzi con il nuovo Shotgun mi raccomando, spolliciate questo video a più non posso, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e vi ricordo inoltre che mi trovate in live tutti i giorni dalle 17 in poi sul mio canale Viola quindi se volete passare anche semplicemente per un saluto mi trovate in live il link del mio canale è qui in descrizione come tutti gli altri social Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, passiamo al gameplay e andiamo a vedere insieme cosa abbiamo combinato Buona visione Raga, i dirigibili? Cazzo volevano andare il dirigibile ma non c'è L'hanno tolti? Era tipo in mare Ma l'hanno tolti ufficialmente quindi Ecco il nuovo pompa Quindi Oh si spara, no 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 arrivo 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 Quanto cazzo io ho fatto? Non ho visto 121? Putta miseria Quindi se io sparo così Vabbè carica velocissimo Il fiore chiude così quindi vabbè il colpo giustamente non penserei tipo fino là Vabbè lì c'è, lì c'è arrivo ovviamente Sì sembra l'insieme di un, di un caccia e il, il pompa del nonno quello vecchio Infatti vedete tipo è, è allungato Cioè il for Ah posso comprare la viola Minchia ragazzi ma di che stiamo parlando Sembra tipo, sì anche un po' il combat in realtà sembra Sapete mi ricorda il vagamente, vagamente, vagamente il combat Ma cioè il combat era ancora più lungo in realtà Vediamo cosa mi troppa la cassettina Vabbè Sapete che vi dico? Vai Vai Ragazzi per il content Attenzione Martina scende 360 No ancora 360 No Ok va bene Alla Alla Pussy Volevi scappare dal mio double pump? Non puoi Non puoi Non puoi scappare dal mio triple pump Bitch Fa un male porco comunque La cosa figa è che carica velocissimo Quella è la cosa comunque bella Non ci mette 30 anni a caricare Sebbene comunque abbia un colpo Carica molto veloce Ora facciamo Girata a destra Au Voilà! Gesù, tutto bene? Scusami, non ho toccato Betlemme, neanche la madonna! Fede, Fede, salvami! Porco, 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 porco! Chill, 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 chill! Chill, chill, chill! Siamo ancora vivi! Siamo fucking alive ancora! 145? Ok! Hai assaggiato? Ti è piaciuto? Il fringuellino? Bene, andiamo! Vedete che faccio? Faccio così, il jetpack! Sì, il jetpack, ragazzi, il jetpack con questa bomba è fortissimo! È un nuovo meta, fidatevi! Fidatevi, fidatevi, fidatevi! Un nuovo meta, un nuovo meta, un nuovo meta! Vai, Fede, vai! Presi in volo, attenzione! Attenzione, attenzione! Va a terra! Enemy is down! Tresixi, saliamo sulla macchina e si vola! Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Klaxon! Viva gli sposi! Se scappi, sei veramente un pussiluma! Okado! No, non credo di cazzo, vai! No, no, no! Scherzavo, fra! Vai, Fede, vai! Attacchiamo! Vai, Fede, l'attacco! Ok, vai, ce l'abbiamo! Calma, ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci! Splashina! Altra splashina! Carichiamo l'arma! Alla! 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 Ah, ma andando a banchità, dov'è che scappi? Ma non l'hai inquietato! Ma perché? Ma no, veramente, guarda! Dove è la mia macchina, ragazzi? Ah, eccola là! Mi sa che non c'ha più benzina, però! Ed è anche rotta! Dai! Carbonante esaurito! Non è un problema! Non è un problema! Non è un problema! E si vola! Via la radio! Comunque dovrebbero metterla, secondo me, su Fortnite e Radio Maria! Io aprirei una petizione per mettere Radio Maria sulle radio di Fortnite! Vi giuro, starei tutto il giorno camperato in macchina ad ascoltare Radio Maria! Cristo Dio! Perché non lo fanno? Best con la Beaver! Ragazzi, vi insegno una tecnica! Si chiama la tecnica del lombrico! Il lombrico come fa? Prende la macchina! Si butta sulla linea tela di Spider-Man! Con un po' di difficoltà! Vi buttate! Fate un 360! Scendete! E fate un po' di così, no? Prendete la zipline! Rivolate! Fate un po' di così! E arrivate a dire... Ah! Cilla, fra! Un po' di calma, eh! C'è questa agitazione! Siamo in una situazione che non proprio... Calma, 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 calma! Uno è sul tetto! Eppure qua c'era uno, eh! Sì, è ancora sopra, ragazzi! Ragazzi, ci possiamo provare, ma ci fare il culo! No, ci fa il culo! C'è solo un metodo per ammazzare questo player! Shh, shh, shh! Calma, calma! Sì, non è? No, ragazzi! Io l'ho detto, col jetpack è godlike questa combo! Mi becco sempre i meta... Le cose migliori! Potrei avere un problema tecnico! In realtà non ce l'ho! No, è l'ultimo! Bene, ragazzi! Siamo arrivati al termine di questo video e come avete visto, purtroppo, non è finita troppo bene per noi! Non mi ero reso minimamente conto di essere rimasta uno contro uno e come avete visto, ragazzi, stavo letteralmente trollando a destra e sinistra con doppio pompa che neanche funziona e con il jetpack. Però comunque... Oh, ragazzi! Abbiamo fatto delle kick comunque veramente assurde solamente con i pompa! C'è non notato nessun'altra arma! Quindi direi tanta roba! C'è stato veramente molto divertente e secondo me questo pompa è veramente molto, molto, molto valido! A me personalmente piace tanto! Detto ciò, ragazzi, non l'avete ancora fatto, mi raccomando, spolliciate questo video, iscrivetevi al canale, dalla vostra crata è sicuramente tutto e noi ci becchiamo in un prossimo video! Bella a tutti, ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie a tutti